Questa non è una partita come le altre, è abbastanza chiaro, anche perché vedere scene come queste a quattro giorni dalla partita, il Lega Pro è più unico che raro. Rende Cosenza non è un derby come gli altri, è un qualcosa di molto diverso, non può nemmeno chiamarsi stracittadina perché di fatto si tratta di due comuni diversi separati da questo ponte ma in un unico contesto urbano. Nessuno nota il confine, l'esistenza di una tabella che segna l'approdo in altro comune perché almeno urbanisticamente è una città unica. Guai però a dire a un cosentino che è di Rende o a un rendese che è di Cosenza, eppure tanti cosentini vivono a Rende e viceversa, forse senza accorgersene perché il confine è impercettibile. Ed è questo il campanellismo che rende questa partita speciale come un derby più di un derby e genera questa attesa. Il campanellismo che divide e che non consente di creare una squadra unica, un po' come il calcio che però sa anche unire. Perché chissà quanti rendesi sono stati al San Vito, quando ancora non si chiamava Marulla e Marulla magari giocava, a tifare per il Cosenza che militava in Serie B. Ed ora che il piccolo si fa per dire Rende e Lì vivono una sorta di dramma interiore non sapendo per chi fare il tifo. Un derby quindi diverso dagli altri perché non si può essere della Juve e del Torino, del Milan e dell'Inter, della Lazio e della Roma, ma si può aver tifato sia per il Rende che per il Cosenza. Almeno per una volta non domenica prossima, partita la quale nessuno vuole mancare. E se non si riesce a comprare un biglietto, c'è sempre la possibilità di trovare ospitalità in uno degli appartamenti che sovrastano i Lorenzo, tanto nessuno chiederà se sei di Rende o di Cosenza. E proprio perché il calcio sa essere una vera metafora della vita, il Rende arriva da favorita e con il vento in poppa, mentre a pochi metri dall'altra parte di questo ponte il vento è solo uno spiffero di aria gelida che passa dalla contestazione dei tifosi che almeno questo derby vogliono vincerlo.